musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi non poteva mancare il video della patch 14.00 più comunemente chiamata season 4 ci sono veramente una tonnellata di cose nuove nuove armi che ritornano vecchie armi che vanno via skin incredibili backpack nuove location insomma adesso andiamo a vedere tutto con calma prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente alla prima parte e cominciamo subito con una schermata di caricamento come vedete ragazzi sullo sfondo galactus davanti invece silver surfer silver surfer che non è presente nel pass battaglia ma che si vocifera possa essere il nuovo bundle della season 4 non sappiamo ancora quando arriverà non sappiamo ancora da cosa sarà composto mi immagino ovviamente il suo backpack che andrà a cavalcare la skin probabilmente anche scusate vuole dire suo deltaplano che andrà a cavalcare il backpack e ovviamente si spera un po di vbucks andiamo avanti con alcune delle immagini delle schermate di caricamento come vedete qua abbiamo tony stark alias iron man e abbiamo anche la skin invece di torre in pass battaglia di questa season è veramente molto figo la season è incentrata come sapete al cento per cento sul marvel sugli avengers che ovviamente devono in qualche modo far capire a torre e che non deve attaccare l'isola e fermare ovviamente la minaccia di galactus questa è proprio un'immagine della mappa vista con la miniatura come vedete mi sembra che tutta l'area che comprende pantano e foresta frignante sia notevolmente più scura non saprei dirvi il perché ma a prima vista a me questa è l'impressione che è stata data tra l'altro se andiamo a guardare al centro della mappa esattamente sopra l'autorità vediamo che c'è una nuova una nuova cosa perché non è una struttura ma è una gigantesca porta aerei che trovate anche nel trailer ufficiale di questa season dove sono presenti ovviamente gli avengers e che farà parte anche della schermata della pre lobby quindi vedremo proprio lo sfondo della mappa visto dall'alto da questa porta aerei andiamo avanti perché questo invece è uno dei due starter pack che stanno per arrivare questo dovrebbe essere quello di salva al mondo lo capiamo perché ci sono delle sfide dedicate e in alto a destra ci sono i ticket dei lama quei ticket sono molto importanti in quanto abbastanza rari come vedete ha una variante con la maschera somiglia molto ad una skin che già abbiamo in game la sua la sua lama ovviamente che è probabilmente anche intercambiabile con quella che vedete là in alto mentre quella che vi sto facendo vedere in questo momento è l'immagine dello starter pack del battle royale la schiena è esattamente la stessa o comunque molto simile si chiama street serpent se non ricordo male quindi il serpente della strada con i suoi v bucks con il suo backpack e con il suo piccone a doppia impugnatura davvero molto carino 4 99 il costo vale sempre la pena prendere gli starter pack perché i 600 v bucks sono comunque è il prezzo più o meno anzi sono addirittura di più di quanto vi costerebbe comprarli vincendo la prima partita invece nella season 4 arriva il might marvel bra la come vedete il nostro ombrellino da collezione che va benissimo a riprendere il tema di questa season con questi fulmini e questi colori rossi ombrellino metallizzato davvero molto molto figo e quindi un bel in bocca al lupo a tutti per la vostra prima vittoria cominciamo ad andare a vedere alcuni dei deltaplani si ragazzi perché questo è un deltaplano è quello di dottor doom come vedete in realtà non esiste il deltaplano ma sembrerebbe che lui lanci dalle mani queste onde verdi che gli permettono appunto di fluttuare una cosa simile succede anche per un'altra delle skin degli avengers credo sia tempesta mi suggerisce il vortice intorno alla skin che potrebbe essere proprio lei e anche lei riuscirà a librare nell'aria con la forza dei fulmini thor invece ha il suo martellone che a questo punto potrebbe essere il suo deltaplano e terminiamo invece con un deltaplano un po più classico che siamo abituati a vedere ovviamente parlo di quello di iron man quindi le due ali che gli permettono di muoversi librandosi nell'aria abbiamo anche dei backpack molto velocemente il thor's clock quindi il mantello di thor ma abbiamo anche il wolverine's trophy vi ricordo che anche wolverine farà parte del set ovviamente degli eroi marvel abbiamo il suffling groot quindi il backpack della skin groot perché anche lui farà parte del pass battaglia e terminiamo con il doom calice calice io lo dico calice perché non so come si pronuncia in inglese ovviamente quello del doctor doom una rapida visione anche ragazzi di tutte le coperture che stanno per arrivare anche queste ovviamente sono a tema dei supereroi ogni copertura va a riprendere appunto le colorazioni e quindi tanta tanta roba molto molto carina e qua invece una carrellata delle scie che probabilmente troveremo nel pass battaglia anzi quasi sicuramente ci avevamo preso qualche giorno fa nel concept che avevo mostrato per quanto riguarda i nuovi fish questo ragazzi è il misdans midas flopper e non c'eravamo andati molto lontano perché a parte la cicatrice sull'occhio e la colorazione orata che ha orata è un pesce ha anche il ciuffetto il ciuffetto di mida quindi dovremo ancora scoprire che cosa fa questo pesce ma ne abbiamo invece un'altra che è la vendetta flopper uno dei nuovi uno dei nuovi pesci ragazzi come vedete danno ai player 40 dobbiamo capire se sono tipo delle bombe a mano perché questo 40 al danno dei giocatori non si è capito ed è la stessa cosa che succede anche per lo spicy fish 40 di danno anche per lui per il jellyfish 40 di danno e per concludere con l'oop flopper staremo a vedere ovviamente non appena arriveranno in game però attenzione perché questi pesci non verranno pescati con la canna da pesca normale ma servirà la pro fishing road ragazzi che tra l'altro ha una particolarità se riusciamo a catturare un player con la pro fishing road 100 di danno quindi affinate le vostre tecniche da sanpei perché quella situazione è interessante è una notizia che aspettavamo da un anno e mezzo quasi due direi vi ricordate in season 4 la skin leggendaria della chiappa mosche l'unica skin che fino adesso non ha avuto il backpack tatarata tatarata finalmente verrà consegnato il fly trapper tolgono finalmente anche questo piccolo neo che ci portavamo avanti da anni tutti quelli che hanno la skin otterranno gratuitamente anche il backpack uno sguardo rapido anche a tutti i picconi che stanno per arrivare ne vediamo veramente alcuni curiosi li possiamo riconoscere dalle colorazioni quello di iron man quello di wolverine nei doppi artigli quello di grut che potrebbero essere i doppi martelli di legno quello di toro ovviamente il martellone noto anche quello di di galactus che appunto come vedete ha una colorazione verde dei backpack invece in questa in questa immagine non ve li sto neanche a spiegare perché li avete sicuramente già capiti e andando avanti uno sguardo un pochettino più ad alta definizione per quello che riguarda le coperture quella dell'inventors choice che è quella di iron man mi sembra veramente molto molto bella vi ricordo anche che arriveranno delle sfide dedicate ai vari eroi che permetteranno di sbloccare degli stili personalizzati per ognuno di loro ve ne faccio vedere semplicemente una che è quella delle wolverine challenge quindi le sfide di wolverine defeat wolverine qua bisogna capire un attimino se verranno utilizzati gli eroi marvel come boss nelle varie location non lo sappiamo sappiamo però che verremo ricompensati con due premi il primo è un adesivo il secondo invece è uno standardo queste sfide si ripetono ovviamente per tutti gli altri eroi e poi parliamo finalmente degli ingressi e dei grandi ritorni in game perché torna il mitraglione da 100 colpi la heavy machine gun mi ricordo si chiamasse così in inglese ma questo a noi non interessa perché il grande ritorno è lui ragazzi sbam fucile a pompa del nonno hanno veramente fatto la mossa azzeccata la community lo voleva pure io l'avrei voluto nuovamente in game e il nonno torna a gran voce a discapito purtroppo del tac che invece viene rimosso insieme ad altre cose innanzitutto vengono riaggiunte le giamperine quali i pad i come li chiamavamo si le giamperina e comunque le piattaforme quelle che vi permettono di potersi saltare sopra e non prendere danno da caduta tornano anche le granate esplosive e per terminare ragazzi vi faccio vedere due cose velocemente il primo è un nuovo balletto di tik tok il 6 so tornano che non so bene perché sia finito lì però fa niente ritornano anche le ballerine e arriva anche uno stile extra per tutti i possessori di sempre centro quindi la colorazione blu abbiamo un po sforato ma voglio salutarvi facendovi vedere le ultime tre cose le tre schermate le tre i tre background musicali la wars horizon il might e il menace chiamatelo un po come vi pare tutti gli adesivi presenti che vinceremo con le sfide dei vari eroi vi ricordo come vi ho detto silver surfer sarà un andò ed ecco qua l'ultima cosa che volevo dirvi vengono tolte viene tolto il pompa tattico il tac viene tolta la pistola epica e leggendaria viene tolta la rapid fire rara epica e leggendaria la mitraglietta in tutte le rarità e il fucile da caccia quindi ragazzi la season 4 promette tanto promette bene staremo a vedere che cosa è io vi ringrazio per avere guardato questo video ragazzi su twitch rimango in live mando solo la chiusura rimango in live noi ci vediamo in live su twitch ciao 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 Grazie a tutti.